Il dolore è vostro amico, è vostro alleato, sarà il dolore a dirvi quando siete feriti gravemente, sarà lui a tenervi svegli e rabbiosi e vi ricorderà di finire il vostro lavoro e tornare a casa in qualche modo. Ma sapete qual è l'aspetto migliore del dolore? No, signore! Vi permette di sapere che non siete ancora morti. Grazie a tutti!